E' scattato oggi il terzo ed ultimo click day per i lavoratori stagionali extracomunitari. Oggi si è parlato di agricoltura, quasi 90.000 i posti disponibili in tutta Italia migliaia. Le richieste che sono state inviate, tanti anche i problemi e le polemiche. Ma sì, è una situazione davvero difficile perché si lascia veramente alla casualità la selezione delle maestranze del mondo dell'agricoltura, maestranze che sono nettamente con un numero ridotto rispetto al fabbisogno ma che allo stesso tempo sono relegate ad una selezione che è casuale, cioè un click day. Quindi chi fa prima cliccare sulla tastiera con il benestare dei programmi ministeriali che spesso si intoppano questo può consentire o meno a qualcuno di arrivare a lavorare in Italia. Quasi 90.000 i posti in totale, da voi sono arrivati tantissimi agricoltori, aziende agricole? Sì, il fabbisogno è largamente superiore alla disponibilità di posti, questo è il primo dato. Il secondo dato è che appunto la casualità e quindi la non oggettività o comunque la non selezione attraverso dei criteri oggettivi non consentono neppure di individuare né in base al fabbisogno delle aziende né in base alle capacità o delle maestranze che possono venire a lavorare in Italia. Cioè anche chi l'ha definito una sanatoria? Sì, di fatto è un modo attraverso il quale si consente un flusso di immigrazione verso l'Italia che poi nelle migliori delle ipotesi e nelle migliori casi va a finire a lavorare effettivamente nel mondo dell'agricoltura. In altre situazioni invece è un modo per varcare il confine. C'è bisogno comunque di lavoratori, lavoratori stagionali soprattutto nel comparto agricolo? Ma sì, l'agricoltura è in grossa sofferenza oramai da anni, la difficoltà delle imprese di reperire mano d'opera è oramai un elemento costante, uno dei problemi che si uniscono a quelli ambientali, a quelli dei predatori è quello della mancanza di mano d'opera, non sono certo meccanismi come questi, quello che aiutano le aziende a soddisfare il proprio fabbisogno. Da dove arrivano tanti lavoratori? Ma arrivano dal Nord Africa, dal sud-est asiatico, dall'Asia, dall'Europa, che dai paesi europei che non sono ancora comunitari, quindi queste sono le maggiori aree da cui c'è una maggior richiesta di flussi.